Adesso abbiamo superato alcune squadre, penso che abbiamo fatto una buona gara oggi, pur facendo qualche errore in più, secondo me in fase difensiva siamo stati bravi a reagire e siamo stati propositivi in fase di possesso. Hai messo uno zappino importante nell'occasione del gol del pareggio, ci hai creduto fino alla fine, nonostante ci fosse stata anche quella situazione particolare con Aguirre, tu sei andato come un treno e l'hai buttata in mezzo. Sì, è stata una situazione particolare perché tutti aspettavano il fischio dell'arbitro, io invece ho continuato con la mia corsa, poi ho messo lo sguardo in mezzo, ho visto Cyril nell'uno contro uno con il difensore, e praticamente l'ho messo forte raso terra in mezzo e da lì si creano sempre dei pericoli e alla fine, sì, con un po' di fortuna è entrata. Però se vogliamo quella è un po' la fotografia dell'Udinese attuale, magari un Udinese delle primissime giornate, magari lì ci saremmo fermati e avremo atteso il fallo, adesso aggrediamo di più, c'è più pressing, c'è più volontà di strappare queste vittorie anche perché la classifica ce lo richiedeva se vogliamo. Sì, è quello il punto importante, adesso nelle ultime gare abbiamo cambiato un po' l'atteggiamento, cerchiamo di stare più alti e più aggressivi, mettendo in difficoltà l'avversario, quindi dobbiamo continuare così e limitare gli errori in fase difensiva perché oggi abbiamo preso due gol e sicuramente c'è ancora da migliorare. Ti faccio una domanda anche a livello individuale perché ti vediamo in crescita, insomma hai avuto un avvio di stagione non facile sotto il punto di vista degli infortuni, adesso però ti senti decisamente meglio, lo si vede anche dalla tua corsa. Sì, mi sento molto meglio, ho lasciato alle spalle l'infortunio e praticamente sto a 100%, quindi cerco di dare una mano alla squadra perché dopo le prime giornate eravamo già un po' in difficoltà, adesso stiamo giocando meglio, facendo più punti e dobbiamo assolutamente continuare così.